da tantissimo tempo che non ci sentivamo ebbene sì dall'intervista nel lockdown beh io ricordo era l'otto marzo del 2000 più o meno io l'otto finito di lavorare e poi abbiamo fatto quella abbiamo fatto tipo una settimana dopo 15 giorni dopo insomma ci siamo cominciati a distreggiare su queste conversate video ma va bene sono sempre informazione perché ma sì no io mi sono divertita tantissimo ho fatto tantissime interviste alla fine poi ho deciso anche io di aprire il mio canale youtube quindi voglio dire qualcosa che poi alla fine molto interessante eccolo qua questo è l'indirizzo del tuo canale youtube perché vorrei riprendere con te un discorso di benessere attraverso il tuo libro nel 2018 ottobre 2018 ottobre 2018 che aveva preso un po il piede della situazione per aiutare queste persone in questo caso specifico tuo in ospedale perché tu sei rara da questo punto di vista magari intanto diciamo un pochettino l'argomento intanto perché non non sempre tutti conoscono queste tecniche olistiche allora io ho scritto un libro sul reiki che è una tecnica energetica di origine giapponese si traspette energia semplicemente toccando la persona con le mani è qualcosa molto simile alla parano terapia che magari non è conosciuta ma comunque quantomeno nominarla già sembra meno meno distante insomma delle persone comunque sono due tecniche diverse anche se comunque alla base c'è comunque l'energia solo che l'energia del reiki e si prende dall'universo mentre e la prano terapia il soggetto che dall'energia dalla propria energia perché nasce con questa dote e ce l'ha in eccesso la dà però deve stare attento a non darne troppo altrimenti si scarica lui dunque io ho conosciuto questa tecnica energetica e quindi torniamo all'argomento ospedale quando sono stata operata nel 2013 per un tumore alla testa di conseguenza insomma le le mie amiche anzi una in particolare ci teneva a insomma aiutarmi in qualsiasi modo certo non le persone non possono stare lì a fare quello che hanno da fare i medici però in qualche maniera il sostegno è sempre più che gradito e insomma poi dopo l'intervento quando sono uscita mi ha fatto per mesi questi trattamenti io inizialmente ero un po' scettica perché dicevo beh sì mi rilassa questa tecnica ma non credo possa aiutarmi a guarire prima e invece 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 sì perché innanzitutto eh mitica il dolore e l'operazione ovviamente quello sono tutte cose che fanno i medici però poi il nostro corpo quando c'è una cicatrice soprattutto importante come la mia perché comunque insomma eh da qui su fino alla alla base del collo insomma oltre 30 punti e quella guarisce da sola con i con i mesi insomma no perché piano piano si cicatrizza da sola come quando ci facciamo qualsiasi eh graffio taglio quello che sia insomma e e quindi niente insomma a quel punto mi sono cominciata ad appassionare ho frequentato il corso di primo livello di secondo livello con lo scopo proprio di eh portare questa tecnica energetica come volontariato in ospedale proprio nel reparto dove ero stata ricordata e perché avevo visto in quelle tre settimane che ero stata lì che effettivamente era un reparto un po' particolare che c'era bisogno di un un aiuto in più diciamo rispetto all'aiuto medico perché eh i medici ovviamente fanno quello che c'è da fare però ci vuole anche sostegno eh sono momenti un po' particolari che non non sempre si vieno bene anzi quasi mai e e quindi eh ho chiesto al primario se era possibile fare questa cosa e andavo lì due volte a settimana ho fatto cinque anni di volontariato mi sono fermata esattamente a a quattro cinque giorni è la data che hai detto tu prima 8 marzo che ti sei fermato di lavorare io tipo il cinque adesso più o meno quella è la data è stata l'ultima volta che sono andata a fare volontariato in ospedale quindi da marzo eh del duemila quindici a marzo duemilaventi quindi precisi cinque anni perché sappiamo tutti che cosa è successo al mondo intero e quindi con il covid la vita eh purtroppo si è fermata e però due anni prima avevo fatto uscire il mio libro che eh ripeto il libro sì sono i reiki ma in realtà non è eh un libro classico nel senso che ce ne sono tantissimi e li potete trovare online in libreria eccetera ma parlano tutti della tecnica delle origini il mio è l'unico e sottolineo l'unico libro che parla di esperienza sul campo in questo caso eh ospedaliero e quindi ci sono interviste cioè non interviste sul mio canale poi le trovate e poi ne parliamo magari eh ci sono quindi i racconti sul libro racconti di quello che è successo con pazienti infermieri e neurochirurghi che eh in quei primi anni quindi fino a quando è uscito il libro poi ovviamente come ho detto continuato anche dopo hanno provato il reiki da me e quindi ci sono delle esperienze bellissime pensa che quando ho fatto la presentazione ehm alla libreria della Ditorium Parco della Musica eh è venuta anche una ex paziente del San Filippo Neri che aveva ricevuto reiki da me e siamo rimaste tante amiche e lei è venuta apposta dalla Sicilia per me e ha letto un passo del libro proprio che la riguardava ed è stato bellissimo anche un'altra ex paziente è venuta e ha letto il passo del mio libro e una settimana prima esattamente era diventata mia allieva perché lei stessa ha frequentato il corso di primo livello insieme alla figlia e altre persone ma comunque anche lei ha intrapreso questo percorso quindi non solo ho 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 aiutato delle persone ma anche poi alla fine introdotto queste persone a questa stupenda tecnica energetica quindi bellissima sta cosa partiamo dal libro ma facciolo vedere fisicamente questo libro certo eccolo qui eccolo là perfetto bello cicciotto girolo di di fianco facci vedere no no bene allora allora qui c'è tutta la la scritta dietro della quarta di copertina ok allora la scritta qui sotto non so se lo vedete magari se guardate con il cellulare non si legge ve lo dico io tecnica energetica in affiancamento alle terapie convenzionali quindi assolutamente questa tecnica non va a sostituire le cure mediche lo sottolinea anche nel libro eccetera perché comunque io proprio perché ho fatto questa cosa in ospedale eh mi sono come si suol dire tenuta bassa ho fatto il mio lavoro senza disturbare quello che c'è eh che hanno tutti quanti da fare in ospedale sono stata molto molto di aiuto infatti mi indicavano loro eh i pazienti da da trattare che sostanzialmente si rivedevano in due diciamo categorie quelli che erano molto molto agitati perché che magari il giorno dopo dovevano affruttare l'intervento e quindi eh ovviamente eh si rilassavano insomma stavano bene con questo trattamento di di benessere energetico e poi eh anche alle persone magari le stesse che incontravo la settimana dopo stavano ancora lì che avevano dolori ovviamente post operatori chiaramente i dolori si possono far passare eh con l'antidolorifico ma vuoi mettere farli passare per qualche ora intanto semplicemente con una tecnica energetica quanto può alzare il il morale no? Una persona dice beh allora se posso eh stare bene con un semplice eh trattamento energetico figurati fra un po' di tempo come so non mi ricordo più niente di quello che è passato no? Quindi bellissimo anche questo. Che spettacolo. Guarda io l'ho fatto una sorpresina senza dirti niente. Dimmi. A me piacciono le comprese. Allora eh sul mio portale Callori ho integrato nella sezione shop adesso faccio tutto un po' il giro ci sono varie varie cartelle eh dei prodotti che sto vendendo e uno in particolare c'è il tuo libro che io apro in questo momento per poi eh questo link che è nel mio eh portale mi porta direttamente su Amazon questo è il bottone qui ci sono qualche informazione. Ok. C'è un un bellissima playlist tua consiglio. Sì. Precisa proprio specifica per i reiki. Esatto del reiki l'ho inglobata e ho messo delle informazioni così potrebbero andare più a fondo con le informazioni cliccando direttamente sul eh link per il momento per aiutarlo ma poi possono scrivere anche Angela Chiumenti su eh Amazon e acquistare questo libro in questo momento sta a diciassette e dieci poi sicuramente un libro quando viene ricercato da da tutti aumenta anche il suo prezzo però per il momento è qualcosa di eh storico storico in che senso? Che è l'unico libro che racconta le esperienze sul campo di un ospedale? Sì è l'ospedale al riparto di neurochirurgia del San Filippo Neri di Roma. Benissimo. Guarda allora ti faccio vedere ti faccio vedere e anche se comunque in bianco è in bianco e nero la foto però eh comunque c'è eccola qui la foto con eh il personale medico infermieristico eh si dovrebbe vedere sì ok e qui sopra anzi qui sopra perché non riesco a vedere qui sopra c'è scritto proprio il nome del reparto e il il nome del primario. Ah la foto che va va bene. Sì. Rimetti la foto. Eccola praticamente c'è il nome del del primario del reparto e e qui ci sono io insieme alla caposalla qualche infermiere qualche neurochirurgico. Grazie ma io spero che prossimamente adesso dopo questi due anni che non vai in ospedale da riprendere questo cammino no? Eh guarda io non ti dico quanto mi manca questa questa esperienza proprio perché eh è qualcosa che ti nutre veramente l'animo e quindi eh sai tutte queste limitazioni che ancora ci sono perché eh anche anche c'è ancora la necessità del Green Pass in questo in questo istante ancora fino al trentuno dicembre per entrare negli ospedali e in RSA eh quindi le limitazioni ci sono limitazioni anche di visite quindi figurati se le persone poi eh si fanno mettere le mani per fare i trattamenti reghi quando neanche gli fanno vedere i parenti quindi bisogna aspettare il momento giusto per riprendere queste cose. Certo ci dobbiamo adeguare allora al libro per il momento. Allora eh a a prescindere eh dal dal fatto se il il libro eh diciamo interessi le persone per questa tecnica energetica è un ottimo libro da tenere come è scritto qui eh sul presente sul sul comodino e leggere un pezzettino ogni sera perché fa andare a dormire eh con la serenità del cuore perché ci sono tante 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 esperienze belle mentre in giro si parla solo di notizie meno belle diciamo così ok? Sono d'accordo con te io ho limitato i telegiornali per il momento. Esatto anche perché tanto dicono le stesse cose le stesse cose leggermente diverse ma poi alla fine sappiamo quindi evitiamo. Allora ci vediamo alla prossima puntata io spero in ospedale di fare una diretta con te tanto adesso con questi telefonini e la tecnologia lo possiamo fare e e in bocca al lupo per il libro e vedrai che ce la faremo tutti quanti. Certo assolutamente mi raccomando leggetelo eh nella sequenza che c'è scritto perché ci sono dei titoli ovviamente per ogni pezzetto che va avanti nella storia ma la eh c'è da seguire una storia cronologica cioè da quando inizialmente questo reiki non lo conosceva nessuno non se lo va a far fare nessuno l'ho iniziato a far provare agli infermieri che poi tutti felici e contenti appena pronunciavano questa cosa del reiki avevano il il sorriso sulle labbra e quindi i pazienti hanno cominciato a farselo fare. Poi eh c'è stato il passaparola tra pazienti distanze diverse quindi poi la voce si allargava poi addirittura pure i parenti me lo chiedevano e io dicevo no qui non sono qui per voi ma per le persone infatti simpaticamente una signora una volta mi ha detto va bene allora mi faccio dare un letto qui vicino a mia madre così poi lo fa anche a me. Grazie Angela. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Sono le soluzioni adesso che dobbiamo fare? Le soluzioni che dobbiamo fare adesso è prendere in mano la nostra consapevolezza. In questo momento è chiaramente questa cosa come a me come a tutto il resto del mondo è caduta in testa con una decola di punta in bianco di conseguenza nessuno di noi si era preparato a quello che è di novità su questo campo? Beh diciamo che purtroppo quando si parla di tecnologia in questo più ultimo periodo va in concomitanza con coronavirus. Eccolo qui perfetto c'è un video che dura 15 minuti. Questo è uno dei programmi che c'è in colorista vincente che si chiama Decromium.